ciao a tutti bentornati ancora una volta su indie gameplay it a oggi siamo su exercise the demons non sono da solo ma sono in compagnia del mio carissimo socio che mi ha portato a fare uno dei più belli risultati di quest'anno è il socio che avevo portato su cuphead luca ciao a tutti nonché collega di lavoro insomma è stato uno dei video più visti del 2019 ok supereremo le 79 visualizzazioni o anche meno forse non so comunque che cos'è questo gioco e perché c'è anche lui perché il gioco ricorda molto come che si chiamava esatto volevo essere attento ovviamente e qua è una cosa un po simile nel senso che lui è un'altra postazione su un altro computer con il manuale e noi dobbiamo compiere un rito perché alla fine del diciamo del livello dove ci troveremo dovremo battere il demone se arriviamo senza aver fatto il rituale in modo corretto il demone ci ucciderà ok iniziamo e vediamo un attimino di che cosa si tratta e soprattutto se merita o meno questo gioco è tradotto un po così così perché lo danno in italiano ma in realtà è fatto un po alla google traduttore graficamente è discreto niente di diciamo a livelli estremi però vediamo si lascia giocare cercheremo di capirci noi lui non vede il gioco io invece dovrò cercare di essere il più chiaro possibile per farmi dare le informazioni giuste il manuale poi lo fa scaricare il gioco lo scarica in automatico sul desktop ed è disponibile sia in italiano che in inglese va bene sì ok il marketing manager fa piacere però cominciamo e vediamo vediamo subito non so direvi ancora il pezzo perché non ho ancora guardato in caso vedremo ok john dove sono mi dispiace john sono pazzo che posto è questo ora sto bene bisogna lasciate vabbè dai non perdiamo tempo andiamo subito ok qua ci siamo ci sono dei pentacoli allora ok questa allora mi senti dovrebbe essere usa chiedi ai tuoi amici le istruzioni contenute nel libro rituale per farlo il libro dei rituali disponibile sì questo lo sappiamo già devi comunicare velocemente guarda i pentagrammi vicino al nexus al centro del mondo per conoscere il tempo rimanente a il tempo rimanente quello che c'è sui pentacoli non guardo perché ho paura allora inizio di reti adesso abbiamo già dato un'occhiata al manuale ti do già le prime info adesso così grazie al manuale scopriremo dovrò trovare se non mi ricordo male il nome del demone ok allora il allora sì va bene allora che colori ti servono perché qua vedo il verde il verde sulla la due volte ok e adesso forse la h blu h una volta a due volte e poi l'altro colore no aspetta diventa blu sulla sulla r una volta la r una volta la h ok lui intanto ha una serie di nomi sul manuale e qui può trovare ok forse ce l'ho allora ripetiamo un attimo l'ha appare due volte corretto verde si ha due volte la h appare una volta la t appare due volte provami la s la s è blu ok ho trovato il nome si ok ok quindi vado adesso lui deve cercare su una tabella una tabella per trovare le lettere l'ultima lettera che corrisponde a due numeri e mi darà il nome della merda sta scadendo allora 9 9 quindi 9 mi dice che le candele sono accesa spenta spenta accesa accesa spenta spenta accesa ok e il numero il numero è 9 9 ok ok adesso cosa sta succedendo sta finendo il tempo non al tempo forse si è ripristinato vabbè andiamo avanti dobbiamo capire no abbiamo affrontato il rituale non c'è altro da fare io credo perché qua abbiamo sì qua è fatto andiamo avanti vediamo cosa succede se c'è altro da fare perché c'è un un libro lì sul sull'altare ok vediamo che cosa succede perché l'ultima volta che ho fatto il modo sbagliato è arrivato il demone ma ucciso e adesso no ce l'abbiamo fatta sì e quindi vedo un libro abbastanza complicato no ce l'abbiamo fatta ok abbiamo risposto all'attacco perfetto tempo rimanente due minuti no ce l'abbiamo fatta livello decisamente meglio delle volte in cui abbiamo giocato a kiktok eh sì livello di sinergia a ma ovviamente era il primo livello ok vediamo ne proviamo un altro e vediamo sarà sicuramente più difficile perché noi non abbiamo fatto allenamento collezione abbiamo sbloccato qualcosa vediamo se c'è qualcosa di ah sono ok si possono sbloccare cose vediamo a bonus è un disegno c'è una sorta di ok di di carte collezionabili va bene vediamo se adesso ci da un nuovo livello sempre nella nella storia livello 2 atto 1 the struggle within assolutamente sì ti descriverò che cosa vedo davanti comunque calcolo che ci avevamo messo due tre minuti più ne avevamo oltre i due quindi 5 minuti ok e la trama è sempre la stessa ma sicuramente diventerà tutto più lungo più compi infatti adesso c'è una scala che sale ok devo esorcizzare il demone sì tutte le volte si sveglia e allora c'è il libro quindi mi sa che dobbiamo salire di qua proviamo a dare un'occhiata di qua ok e sono quattro tipo token quattro gettoni c'è un'ascia sì 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 sono delle linee sì tanto lui sta continuando a parlare allora il primo non lo so sembra boh una freccia se tu leggi che cosa ti serve sapere dal manuale io non tocco niente intanto ma bisogna partire da quale da ok scusami linea verticale sì è l'unico con una no ce ne sono due con una linea verticale esattamente uno sembra più un simbolo giapponese con queste linee curve il primo invece ha tre linee orizzontali e una in diagonale sì esatto 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 quello è il primo ok uno il secondo è l'altro con la linea in verticale sì poi quello con la linea in orizzontale una no tutte e due hanno una no te la descrivo te la descrivo una è una completa un po curva e una una invece tagliata di una gamba una è il simbolo dell'euro al contrario sì esatto ok prima quello o l'altra prima l'altra ok perché intanto sto leggendo e poi quella con l'euro per ultimo ok l'abbiamo fatto si sta muovendo qualcosa ok si sta componendo un quadretto tipo ok abbiamo ho la lettera n scritta in mezzo ok altro allora devi metterle in un determinato ordine sì cioè devi cliccare credo in un determinato ordine io ho allora sono ah in cima un pezzo con quattro sono è tipo un una croce è un ottagono sì con una sì sì esattamente una croce sì allora intanto lui sta leggendo il manuale allora per le prime due seguire il modello per disegnare i segni che immagino il modello io te lo debba dare quindi da quella a destra ore tre per intenderci sì la unisci a sinistra esattamente di fronte a lei quindi ore nove allora questo a questo ok e poi da quella dove sei arrivato adesso a quella subito sotto ok e questo è il primo e due ok allora in questo caso devi partire da quella sopra quella precedente ok no quella sopra ancora nel senso quella che non abbiamo toccato cioè la prima in alto a sinistra esattamente ok e tirarla a quella dove sei arrivato no è giusto? non lo so non lo so aspetta aspetta ho collegato quello quello lì che mi hai detto a quella che ha subito sotto in basso e mi sa che ok si andiamo avanti in ordine ok esattamente a quella di fronte a destra che è le ore si 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 ovviamente poi vai a quella ore cinque no scusami sì cinque o quattro sì e alla fine vai all'ottagono sì e poi vai in fondo del tutto ore sei ok è fatto eh no ne parte un'altra adesso la lettera in mezzo è tipo la è una freccia verso destra con una linea verticale una freccia verso destra tipo una S no mi sa che siamo morti niente ci abbiamo messo troppo era un po' elaborato cioè è semplicissimo una volta che l'hai capito ma non sapendo il regolamento era un attimo elaborato eh sì in effetti va bene lo riproviamo di nuovo facciamo ancora una un giro nuovamente su questo livello tanto ormai adesso siamo ben allenati lo proviamo ancora una volta giusto per riprovarci di nuovo il gioco lo trovate su Steam è abbastanza originale nel suo genere ricorda molto Keep Talking and Nobody Explodes ovviamente l'altro amico non deve vedere quello che state facendo perché si perde il bello del gioco allora adesso siamo nuovamente dove eravamo prima e i simboli sono quelli di prima più o meno e ricordami e poi quello è per quello con l'euro perfetto ok rituale aperto ok facciamo veloce simbolo al centro una N come prima usa le ore ore tre si ore nove ore nove ore sette ore undici si ore due si ore quattro si si ore sette perfetto me lo ricordo ok adesso un'altra lettera e ne abbiamo quattro da fare se non sbaglio ok è un simbolo di un tipo una N in corsivo si allora ore quattro allora aspetta sì ore undici si ore sette si ore due ottagono si ore sei si ore nove si ore tre ok dovremmo aver fatto la C una C con le stanghette orizzontali impostate quindi ore due aspetta eh due ore tre si ore undici si ore sei si ottagono si ore quattro si ore otto otto sette ore nove ok ma abbiamo trovato un bel metodo per capirci devo dire azzarola è una Y con una stanghetta in più sopra ok trovata però sta girando una rotanda esatto quindi il riferimento sarà sempre l'ottagono si 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 dimmi sempre le ore le ore come prima si però allora l'ottagono si ore quattro si ore tre si ore due si ore undici si ore sei si ore nove bello bello dovrebbe essere dovremmo aver fatto concluso non c'è più niente da cliccare niente scendiamo a vedere allora se il demone è battuto se il rituale bellina questa cosa devo dire della rotazione perché torcicollo bene vediamo se che punteggio ci dà e soprattutto se il rituale non è compiuto correttamente il demone arriva e vi uccide musica molto bella devo dire come dicevo ripeto non è graficamente la fine del mondo però è perlomeno originale nel suo genere bene ottimo chissà che sinergia come si l'ha chiamata sì sinergia a livello B si poteva dare di più insomma però ecco questo è questo è il gioco e Exorcise The Demons molto originale tradotto un po' diciamo così così anche al manuale insomma ma si capisce le pagine sono otto i giochi credo siano otto perché alla fine ogni pagina mi pare che dia un gioco diverso si va da medaglioni costellazioni quelle lettere per comunicare con i morti in sintesi rune candele insomma c'è di tutto un po' quindi fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video game play alla prossima ragazzi ciao 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 a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti